Si gioca una schedina, ci carichi 10 euro, i soldi virtuali diventano regolari, un'enorme lavatrice per i soldi della criminalità attraverso le scommesse sportive. Un'operazione antimafia che ha coinvolto non solo Bari e la Puglia ha portato nella notte l'emissione di 68 ordinanze di custodia cautelare, 80 perquisizioni e un sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro, partita da DDA e Guardia di Finanza con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia. Vito Martiradonna, 70 anni, conosciuto col soprannome di Vitine Lenel e tra gli esponenti di spicco del clan Capriati, sarebbe il vertice di questa organizzazione che tra gli altri vedrebbe il coinvolgimento anche di Tommy Parisi, 35enne, cantante e neomerodico, figlio del boss Savinuccio di Antonio Bontempo, 42 anni, Giovanni Paolo Memola, 39 anni e i figli di Martiradonna. Per questi è stato disposto l'arresto. Sulla se Capriati parisi avevano creato un redditizio business in grado di movimentare oltre un miliardo di euro a colpi di clic da Malta a Curaçao passando per le isole Vergine e le Seychelles, per quella che era divenuta una vera multinazionale del gioco d'azzardo, riferimento anche per organizzazioni criminali di altre regioni. Se una parte dei soldi spariva tramite le agenzie di scommesse online delocalizzate tra Paradisi Fiscali ed Est Europa, un'altra veniva reinvestita in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all'estero intestati a prestanome. Ed è proprio da una delle intercettazioni raccolte dalle indagini che emerge la trasformazione delle politiche criminali dell'organizzazione mafiosa. Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali e tu vai ancora alla ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare così, bam bam, io cerco quelli che fanno così invece, bing bing, clicca esse, ma è normale, clicca esse e movimenta esse.